Consegnati i lavori di riqualificazione di parte dell'edificio ex casa comunale di Rocca d'Aspide finalizzati all'espansione dei servizi socioassistenziali e alla realizzazione di un centro famiglia. I lavori per un importo di 500 mila euro consentiranno la riqualificazione del secondo e del terzo piano dell'ex casa comunale al cui primo piano attualmente si trova la caserma dei carabinieri forestali del parco. Con questo lavoro l'amministrazione comunale retta dal sindaco Gabriele Giuliano raggiunge due obiettivi. Il primo è la riqualificazione di uno degli edifici più significativi della città e più cari ai cittadini. Il secondo obiettivo è la possibilità di continuare ad offrire servizi socioassistenziali alla comunità che sono già un fiore all'occhiello. Il progetto per la realizzazione dell'ecomuseo virtuale invece prevede l'adeguamento di una struttura per l'accoglienza, l'informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico. L'obiettivo del progetto è quello di integrare e migliorare l'attrattività turistica del territorio comunale partendo dalla gloriosa storia di Rocca d'Aspide che anche in passato come oggi era punto di riferimento per il territorio.